I narcisisti hanno un modo di fare molto sicuro, a volte spavaldo, comunque riescono sempre a farti temere di essere più forti di te, di essere più bravi di te e di riuscire meglio nelle cose. Ma è vero anche che a volte ti sembra di accorgerti che ti stanno manipolando troppo, cioè stanno tirando troppo la corda nei tuoi confronti. Usano delle tecniche che non vanno bene, usano il gaslighting, usano la denigrazione, a volte ti corteggiano, ti fanno sentire speciale. Tutto questo per ottenere ciò che vogliono. Ma esiste qualcosa che i narcisisti temono? Qualcosa che li spaventa davvero? Ebbene, sì, ci sono alcune cose che veramente li terrorizzano. Allora, proviamo a dirci 5 cose che li fanno veramente spaventare, in modo tale che se ne hai la possibilità, li puoi un minimo controllare. Intanto, benvenuto o bentornato nel canale. E se questi argomenti ti interessano, cioè la psicologia, la psicologia applicata alla vita, puoi iscriverti al canale YouTube Fabio Mazza, nel quale potresti trovare altri video che potrebbero interessarti. Nonostante la parvenza di grandiosità, di essere sempre perfetti, di dominare gli altri, in realtà hanno un punto debole che è molto profondo dentro di loro, che cercano di proteggere a tutti i costi e che è il loro io molto fragile. La loro idea di perfezione e di superiorità deve essere sempre dimostrata a tutti, devono essere sempre al centro dell'attenzione. E se qualcuno mette in dubbio quel loro punto che loro non apprezzano di loro stessi, che anzi fuggono da tutta una vita, quello li terrorizza completamente. Ma una cosa è certa, che tu sia un collega, che tu sia un dipendente, che tu sia un familiare, che tu sia un partner, avere a che fare costantemente con un narcisista o una narcisista, è veramente qualcosa di estenuante. Perché lavorano costantemente per spogliarti della tua autostima. E allora è sempre importante poter farsi rispettare, poter rispettare i propri confini. E potrebbe essere utile per farlo sapere quali sono i loro punti deboli, quello che loro veramente temono. E allora proviamo a delencare 5 cose che loro temono profondamente. La prima è quella di essere smascherati. Generalmente le persone amano essere conosciute per quello che sono. A volte amano anche aprirsi, essere conosciute intimamente, poter dire sono amato per quello che sono in realtà. Questo non appartiene ai narcisisti e alle narcisiste, perché loro spendono anni della loro vita, investono tantissime energie ogni giorno per poter interpretare il ruolo che loro vogliono interpretare di fronte agli altri, per il quale vogliono essere riconosciute, riconosciuti da tutti. E allora ti renderei conto che quello che fuggono maggiormente è un rapporto intimo. Perché non vogliono essere smascherati, non vogliono che qualcuno colga la loro essenza fragile. E quindi nel momento in cui ti avvicini e cerchi di entrare in contatto con loro in profondità, loro ti rifiutano, avranno sempre qualcos'altro da fare, negheranno sempre il confronto. E anche se c'è un conflitto, non arriveranno mai a discutere profondamente del conflitto, perché temono di essere scoperti nella loro fragilità. E se l'immagine che hai più rappresentata del narcisista è che si specchia per compiacersi, in realtà sappi che quasi mai un narcisista cerca di conoscersi o di vedere quelle parti che non desidera. Cerca sempre di vedere un'immagine che lui non rappresenta in realtà. Secondo, odiano essere criticati pubblicamente. Nel momento in cui la loro supremazia che loro pensano di avere, la loro aura di perfezione, viene intaccata e criticata pubblicamente, diventa una situazione per loro assolutamente insopportabile. Non riescono a reggere di poter essere criticati di fronte agli altri. Forse hai già avuto esperienza, magari hai criticato l'agire di un collega, hai detto che quello che in realtà lui si assume come merito è di un'altra persona o addirittura il tuo, oppure hai messo in luce le mancanze di un padre o di una madre durante una riunione a Natale. Queste sono situazioni in cui una persona con un disturbo di personalità narcisistico sembra quasi impazzire, non riesce a tollerarle in alcun modo. Terza cosa che odiano assolutamente è di essere ritenuti responsabili di qualcosa che non funziona. Ovviamente ogni cosa che funziona bene e che riesce è il loro merito, ma nel momento in cui ci potessero essere dei problemi, quello non è colpa loro, assolutamente. Ogni volta che qualcosa non funziona, che c'è una criticità, loro non hanno nessun tipo di responsabilità. E per farlo raccontano bugie. Potrebbero raccontare bugie a te, ma anche a loro stessi, e poi diventare capaci di credere a quelle bugie che hanno raccontato, pur di non accettare la responsabilità di qualcosa che non funziona. Perché anche quella cosa lì andrebbe ad intaccare il loro senso di infallibilità, la loro perfezione, il loro essere al di sopra di tutti gli altri. E se incontrano qualcuno che invece li inchioda alle proprie responsabilità, semplicemente cercheranno di fuggire quelle situazioni, oppure reagiranno con grande rabbia. Quarta cosa che non riescono a sopportare è che quando hanno un conflitto o una discussione, l'altra persona si trattenga e non mostri le proprie emozioni. Perché il narcisista cerca sempre di provocare emozioni nell'altra persona, attraverso la denigrazione, attraverso le offese, attraverso le adulazioni, anche emozioni positive. Ma il fatto che l'altra persona non si lascia andare, gli sembra che possa incidere sulla propria capacità di avere controllo su quella persona. E per il narcisista e la narcisista il controllo sull'altro è fondamentale. E soprattutto se riescono a far arrabbiare molto l'altra persona, in quel momento sentono proprio un approvvigionamento, un'energia che gli entra dentro, perché sanno di avere maggiore potere nei loro confronti. Quinto, una parola che veramente non sopportano. Ed è NO. La cosa che veramente non riescono a digerire, detto da un'altra persona, è un NO. Se ti fanno una proposta, non accettano un NO. Se discutono con te e tu non sposi il loro punto di vista, non accettano un NO. E allora cercheranno di fare in tutti i modi per poterti convincere a trasformare quel NO in un SÌ. E una cosa che addirittura peggio del NO è il fatto che tu non lo voglia discutere. Se riesci ad essere assertivo, cioè dire NO e mantenerlo nel tempo, questa cosa per loro è inconcepibile. e cercheranno in tutti i modi di entrare nella relazione e provocarti quelle emozioni che le aiutano a manipolarti, perché se tu non reagisci e quindi sei capace di trattenere le tue emozioni e continui nel NO, per loro è una sconfitta davvero incredibile. Il fatto che tu rimanga lì a fissarla e non rispondi oppure che lasci la situazione, perché basta, non c'è più nulla da discutere, questo crea in loro una grande reazione emotiva. E con la reazione emotiva concludiamo dicendo che se è veramente molto difficile avere a che fare con un narcisista o una narcisista e che a volte alcune relazioni sono impossibili da sciogliere, in quelle relazioni in cui ci si può allontanare è bene farlo, cioè utilizzare il NO CONTACT. Non ha senso continuare a lavorare o comunque discutere o cercare di cambiare una persona con un grave disturbo di personalità narcisistico, perché probabilmente non cambierà mai. Perché se quando una persona sbaglia, quando una persona ha una difficoltà nella vita, quando fallisce, quando c'è qualcosa che non funziona, potrebbe essere uno spunto per poter migliorare se stessi, per poter trovare nuovi equilibri e quindi nuovi obiettivi, raggiungere nuovi traguardi, per il narcisista, abbiamo già detto, la critica, l'essere messo di fronte alle proprie responsabilità, il far notare che qualcosa non funziona non è accettabile e fa reagire a volte in maniera molto grave. Perché come abbiamo già spiegato nei video precedenti sulla rabbia narcisistica, un narcisista che prova un'intensa ferita al proprio ego reagisce in maniera a volte smodata. E bisogna essere attenti, bisogna essere attenti alla reazione perché potrebbe essere talmente sproporzionata a quello che sta capitando che potrebbe coglierci di sorpresa e risultare anche poi pericolosa per noi. Quindi, in tutte quelle situazioni in cui è possibile attuare il no contact, benissimo, è la cosa migliore. Nelle situazioni in cui invece bisogna far rispettare dei limiti, ricordiamoci che questi cinque aspetti potrebbero aiutarci a farli rispettare senza però entrare troppo in contrasto con il narcisista, senza cercare di vendicarci perché non è questo l'obiettivo nella vita se uno ha a che fare con un narcisista e semplicemente devono essere atteggiamenti che ci aiutano ad ottenere un rispetto maggiore dei confini e dei limiti nella relazione. Se questo video ti è piaciuto puoi lasciare un like e se hai degli spunti, delle esperienze, delle storie che vuoi condividere con gli altri membri della community le puoi scrivere qua sotto, nei commenti.